Sulle situazioni più complesse bisogna assumersi la responsabilità. In questi anni abbiamo dimostrato di essere seri e questa è la premessa del sindaco di Fano sulla questione degli argomenti riguardanti l'aeroporto e l'ambito sociale nel quale sono stati presentati degli esposti da parte dell'opposizione. Sulla questione dell'ambito l'amministrazione comunale esprime il pieno apprezzamento per la chiusura della vicenda penale inerenti i fatti accaduti riguardanti la dirigente Battistini. In particolare risulta che questo esposto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle nei confronti del sindaco seri nell'ambito del rinnovo ovvero nomina della dirigente in questione è stato ritenuto del tutto insussistente non potendosi ricavare alcune ipotesi di violazione di legge. L'amministrazione sottolinea come la revoca del licenziamento disciplinare sia stata convenuta solo a fronte di un accordo giudiziale per impulso dello stesso giudice del lavoro e senza riconoscere rilevanti indennizi richiesti a favore della dirigente se non quello relativo alle spese legali. Facendo questi esposti hanno dimostrato che questa città è guidata da un sindaco serio competente che fa gli interessi della città. Denuncio anche che è un modo di fare politica che non mi piace sempre quello degli esposti sempre cercare insinuare cercare sempre che ci sia qualcuno chissà che cosa faccia. Qui c'è un sindaco serio che fa del suo meglio fa gli interessi della città può sbagliare perché per carità si può sbagliare che ha fatto tanto che ha portato tante cose in questa città tante risorse che non si erano mai viste destinate per Fano. Sulla questione invece della presunta instigazione al falso in bilancio della società aeroportuale avanzate da Santorelli risultano infondate. Il giudice del caso ha archiviato l'ipotesi accusatoria condividendo le argomentazioni analitiche che avevano già convinto il PM a richiedere l'archiviazione. In particolare il PM nella richiesta di archiviazione aveva evidenziato come Santorelli avesse accusato il sindaco, il segretario generale Renzi ed il capo di gabinetto Celani senza prove e non rappresentando i fatti come realmente accaduti strumentalizzandoli. Oggi c'è stata un'ulteriore conferma del buon agire che si è fatto anche qui per tutelare l'interesse dell'aeroporto e della città perché parliamo sempre di risorse pubbliche e anche coloro che hanno seguito la vicenda mi hanno detto in privato che i cittadini devono essere orgogliosi di avere un sindaco che ha dimostrato di fare veramente gli interessi della città. Grazie. Grazie.